Prepariamo la carbonara col tartufo. Questo è il guanciale che usiamo noi, è un guanciale artigianale. Le tagliamo un bel pezzo, lo puliamo. Questo è il guanciale che usiamo. Il grasso si scioglie e rende croccante la parte magra. Facciamo striscioline. Cercate di farli tutti dello stesso spessore. Tonnarelli all'uovo, porzione abbondante, queste sono due porzioni e mezza circa di pasta, che è la nostra padella. Ricaliamo, questo sfrigola ed è quasi crotto. Ora facciamo una cosa che mi piace tantissimo. Un po' d'acqua di cottura. L'acqua di cottura serve ad abbassare la temperatura del grasso. Se ci mettete l'uovo direttamente nel grasso, che cosa fa? Coagula, fate una frittata. Bella manciata di pecorino. E mettiamo l'uovo. E facciamo la cremina. Non ci aggiungo pepe, semplicemente perché è una carbonara al tartufo, rischiamo di mettere troppi sapori uno sopra l'altro. Qui, conservato perfettamente, c'è il tartufo. No, questo è il tartufo neroestivo. Pronta? Ovviamente, se volete, la serviamo in padella, così è.